per tutti ragazzi sono sempre io hkiller e oggi sono qui con un nuovissimo video su come scaricare age of empire 2 direzione in hd per il computer allora per prima cosa dovete scaricarvi questo torrent o da nostro sito oppure da mediafire sarà molto semplice comunque vi lascerò tutti i link in descrizione adesso non vi faccio vedere quella parte lì perché è una cavolata potete farlo anche voi comunque dopo averlo scaricato vi comprerò appunto questo file .torrent che si chiama aoe2hdtig allora noi cosa facciamo? facciamo tasto destro apri oppure doppio clic poi vi verrà visualizzato questi file qui cioè reloaded.inf e poi reloaded aoe2hd.iso allora noi qua selezioniamo la cartella di installazione io ve lo metto qui perché cioè sinceramente l'ho già scaricato quindi lo lascio lì dentro e poi gli diamo l'ok da qui poi inizierà a scaricarlo adesso io non lo riscarico comunque pesa pochissimo pesa 1gb e 34 e ci mette davvero davvero poco io ci ho messo 20 minuti più o meno a scaricarlo voi comunque magari lo scaricate anche in meno tempo selezionate quali sia la migliore della mia comunque dopo aver fatto ciò facciamo doppio clic sul... adesso ovviamente io che non l'ho ancora scaricato non mi fa fare doppio clic comunque dopo che avete scaricato fate tasto destro apri cartella di download ecco a me non lo fa fare perché come vi ho già detto l'ho già scaricato e questo qui è uno nuovo comunque adesso andiamo nella cartella in questo caso qui e questa qui la mia e ci saranno questi due fantastici file allora noi quello che interessa è rld aoe2hd allora per prima cosa dobbiamo farci o tasto destro apri con demon tools oppure doppio clic oppure se non avete già le impostazioni dovete aprire demon tools adesso io lo smonto un attimo se non avete l'opzione che con il doppio clic si monti l'imbagnolo automaticamente dovete fare prendere... selezionare questo qui trascinarlo dentro demon tools e poi trascinarlo su una periferica virtuale per creare una nuova periferica virtuale basta fare più dt allora vi vorrà fuori questo allora noi dobbiamo fare apri cartella per visualizzare il file e poi dobbiamo fare setup dopo ci sarà anche dentro la crack da mettere allora noi quando facciamo setup verrà fuori questo messaggio che dice che se ci piace il gioco dobbiamo comprarlo noi gli diamo ok ok stoppiamo la musica perché non gli da fastidio e si aprirà l'installer di reloaded noi gli diamo next poi qua facciamo browse e scegliamo la cartella dove installarlo io adesso nel mio caso scelgo my book i poi dov'è che stava già non mi ricordo adesso comunque boh non so adesso non lo trovo comunque lo installo in questa cartella qui che si chiama Call of Duty 4 che c'era già tutto dentro lo installiamo lì oppure facciamo browse direttamente facciamo così va che è più comodo nella cartella la cartella si crea già automaticamente comunque basta che voi selezionate per esempio my book adesso in questo caso qui l'hard disk esterno my book e verrà fuori già la cartella si crea già tutto automaticamente poi facciamo next facciamo se volete un'icona sul desktop e sul pannello start qui gli diamo lo spuntiamo con la v se no clicchiamo una volta e si leva e poi gli diamo next poi facciamo install e il gioco si installerà non ci vuole neanche tantissimo di installarlo adesso perché comunque il gioco è semplicemente lo stesso con tutte le texture in HD quindi in poche parole è come se fosse una mod grafica dentro questo Age of Empires 2 HD c'è la Collector Edition quindi tutti i giochi di Age of Empires 2 completi ci sono dentro se non mi ricordo l'era dei re i conquistatore i conquistatores e poi il gioco base poi non so se ce ne siano degli altri comunque quelli che mi ricordo sono quelli perché io ho comunque anche il gioco originale quello vecchissimo ci sono dentro quelli adesso aspettiamo che si installi intanto io stoppo il video e ci rivediamo quando è quasi finito bella ok ragazzi eh si ragazzi buonanotte lol ho fatto un fail comunque ragazzi rieccoci qui dopo aver finito l'installazione qua dice che abbiamo completato appunto l'installazione di Age of Empires 2 HD noi gli diamo finish ed è finito allora l'installazione per ora è finita adesso passiamo al craccaggio allora vi vi dico già che ci sono alcuni antivirus tipo microsoft security essential e avast che segnano questo sim api come un virus e invece state tranquilli ragazzi ecco appunto come potete vedere jcrack adesso io ce l'ho in j perché quello sarebbe l'unità virtuale mi dice che è una minaccia rilevata noi facciamo in un'ora una minaccia oppure non so adesso con con gli antivirus cosa dia comunque fate gli date consenti e qua gli diamo un attimo disattiva temporalmente la protezione di AVG se no vi darà vi darà sempre questo problema allora poi gli diamo ok selezioniamo tutti questi file qui gli diamo copia poi andiamo nella cartella di installazione che io ho messo in mybook Age of Empires 2 e copiamo tutto qui dentro dentro la cartella questa qui non bisogna mettere nessun'altra parte qui dentro e gli diamo incolla qua gli diamo applica ai prossimi conflitti e il craccaggio è completato allora possiamo riattivare perfettamente il nostro antivirus attiva la protezione di AVG e avas per esempio che è un antivirus comunque molto buono non lo segna per il mio virus perché comunque alla fin fine non lo è ne sono sicuro al 100% che non lo è perché io sul mio computer ci gioco Age of Empires 2 e non mi ha dato nessun problema comunque allora noi a questo punto qui abbiamo finito intanto chiudiamo qua un po' le cartelle chiudiamo un po' tutto perché se no si appesantisce il pc vediamo qui esci ok allora intanto qui si sta facendo la bonifica dello spazio libero con ggcleaner allora noi abbiamo finito tutto allora per avviarlo basta avviare a o k con hd che sarebbe un file.exe noi facciamo tasso destro adesso aspettiamo aspettate che ci mette a me sempre mezz'ora perché c'è il computer che sta facendo troppe cose lol aspettate che stoppo mi sa ok no ecco l'ha ritornato facciamo tasso destro esegui come amministratore e il gioco partirà adesso qua stoppo impossibile avviare l'applicazione ah ecco perché qui ragazzi mi ha di nuovo ridato la minaccia allora facciamo ignora minaccia gli diamo ok perché ovviamente essendo ragazzi una crack ve lo segnerà come è una cosa illegale quindi per un antivirus è una cosa sbagliata adesso gli do un nuovo doppio clic che palle me lo riblocca di nuovo allora ragazzi se avete AVG ve lo dico dovete disattivarlo mentre giocate comunque ogni volta che qua si è aperto ogni volta che volete giocare basta che voi lo disattivate poi quando avete finito lo riattivate cioè non c'è nessun problema comunque state tranquilli che non è un virus ve lo ripeto per centesima volta comunque state tranquilli allora qui vediamo se AVG allora mostro i dettagli vedete che mi da steam api allora aspettiamo qui vai al file vabbè lì al file c'è già vedete qua lo segna come un trojan generico comunque ragazzi non lo è caspiterina adesso lo disattivo e passiamo con fraps così vi faccio un po' vedere allora disattiviamo qui disattivo temporaneamente adesso metto 15 minuti e ci vediamo con fraps ok ragazzi come possiamo vedere siamo dentro al gioco che è la gabessia non so come mai la gabessia comunque siamo dentro al gioco questo qui è appunto come potete vedere Age of Empires 2 HD Edition noi facciamo adesso vi faccio vedere una roba un attimo standard game sperando che gli fps aumentino adesso facciamo tutto qui random ok facciamo start game appunto come potete vedere tutto HD Edition e come potete vedere il gioco magicamente è in cioè HD vabbè la grafica comunque è sempre quella di allora comunque il gioco è completamente in HD se non sbaglio si può giocare anche con con il multiplayer tipo tramite i maci però adesso io non vi garantisco niente comunque adesso vabbè facciamo questo qui un attimo tutte queste cazzatelle qui e vabbè comunque ragazzi come potete vedere questo qui è il gioco adesso non mi dilungo qui con il gameplay perché credo che non abbia senso e che altro spero che il tutorial vi sia stato utile perché io ci ho messo comunque un po' a trovare il gioco craccato vi lascerò comunque anche un link in descrizione se non volete usare torrent e volete usarlo direttamente scaricarlo direttamente dal browser da browser cazzo non riesco a dirlo da browser tipo google chrome oppure si media fare buona ottimo zilda lo potete fare vi lascio comunque il link in descrizione se non sbaglio i file dovrebbero essere gli stessi comunque ditemi se i file sono diversi comunque vi dico subito come si fa perché comunque è abbastanza semplice dopo che si è preso il meccanismo comunque per questo video è tutto se volete fare caso giocare con me se si riesce a giocare online volete giocare con me ditemelo pure io quando ho un po' di tempo ci gioco e magari farò una serie con gli axit perché noi siamo appassionati degli age of empire e dei giochi di strategia comunque se avete qualche problema commentate mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale da Dittoria Gamer è tutto ciao a tutti ragazzi